Un Catanzaro arrendevole senza nerbo si piega davanti ad una matera frizzante che crede ancora ai playoff. Nuova prestazione allarmante per i ragazzi di Mr. R che ripetono la poco briosa gara offerta a Martina Franca 15 giorni fa ed incassano nuova sconfitta che complica ulteriormente la classifica non certo allegra. I giallorossi calabresi dopo questo stop vedono avvicinarsi il Catania e il Melfi distanti rispettivamente 1 e 2 punti. E' stata una partita che i locali di Mr. Padalino, squalificato, hanno tentato di indirizzare immediatamente sul binario a loro favorevole. La pioggia nel primo tempo incessante lascia poco spazio alle manovre articolate. Il Catanzaro nel primo quarto d'ora tiene bene ma si è fatto ingenuamente sorprendere sul primo corner dei bianco-azzurri. E' il diciottesimo infatti quando il difensore di Lorenzo in campo con l'altro ex della regina Armellino schiaccia di testa in porta a suo angolo proveniente dalla fronte destro dell'attacco materano. La palla si impenna a dovere, si infila all'incrocio lì dove i grandi non se l'aspetta 1 a 0. Reazione calabrese che tarda ad arrivare da allora l'ex Giovanni Tomi raccoglie una corta respinta, anticipa il lento a Godirin e scaglia un fendente di sinistro che dopo aver superato diverse gambe si infila sul secondo palo raddoppio Lucano tra l'immobilismo calabrese. Il Catanzaro avrebbe ora l'opportunità di rientrare in partita con a Godirin e Bernardi che potrebbero riaprire la gara ma a bifulco salva in entrambe le occasioni. Nel secondo tempo non accade praticamente niente. Il Catanzaro è lento e spento, non ha leader in campo in grado di cambiare il ritmo ed una gara che sembra ormai decisa. Mancano le verticalizzazioni e gli spunti imprevedibili. Di fatto quindi il Matera controlla agevolmente, anzi i Lucani riescono anche ad arrotondare il punteggio con Albadoro al settantesimo quando l'attaccante di casa anticipa Calvarese e raccoglie una traversone dalla destra di Ermellino e Brucia Grandi che aveva inizialmente respinto. Unica occasione per il Catanzaro un bel tiro da fuori di Agnello parato a terra dall'attento bifulco. Va in archivio quindi una nuova sfortunata trasferta per il Catanzaro che dovrà prepararsi per fare un'impresa a Lecce lunedì prossimo nel posticipo per invertire una tendenza molto negativa. Grazie a tutti.